Grazie. 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 Va. Ah, sì, 6 domande chiedi pure. Con la musica a manetta. Sento che arrivano tutti. Al momento no, però avrò sicuramente dei dubbi dopo. Ok. Appena hai i dubbi, dimmelo. Devo fare un'ora di esercizi e per fare l'altra di... Iniziamo la seconda... Cioè la lezione con i numeri. È l'ora di dare i numeri. Intanto facciamo un flash di quello che era successo nell'episodio precedente. No. Scusa ma stavo rispondendo su WhatsApp. Ah, vai tranquillo. Qua mette solo la forma imas con le persone. Arimas quando si tratta di cose non animate, non vive. Qua la regola era per unire due frasi. Des diventa de virgola e praticamente una frase unisce con l'altra. John Samua america jean des invece diventa de. Latana santa è jean des. Il signor John è americano e la signora Latana è tailandista. O un'altra cosa che avrei potuto dire ma non lo vero. Ci sono i modi di domandare quale persona, Dono Ito, Donata è chi è, Dono Tatemono quale palazzo, Dore quale oggetto, Doko dove, Doko Ga. Poi, perché c'è questo? Ah, ho scritto Toile, ok. Docira è da quale parte? E questi sono, Kociragami Namides, questa parte è sud, questa parte è nord. E vatashin, perché cos'è sta roba? Perché ho scritto così, cos'è sta roba? Da quella parte, ah, no, non so perché c'era un pezzo in più, vabbè. È l'unica cosa, era un dubbio, ma viene dalle lezioni avanzate che fai di mattina. Eh no, chiedi, chiedi, tanto stiamo aspettando, chiedi pure. Quella parte laggiù, Ovestè, niente. Basta, Doko, Doko, Kani, Nani, Nani, Kani, Nani, Mo, Donata, Dan, Nataga, Donata, K, Donata, Mo. Dove, da quale parte, da nessuna parte, cosa, che qualcosa, niente, chi, qualcuno, nessuno. E basta, puoi vedere quali sono solo quelli. Già fatto? Chiedi, chiedi pure, tanto, finché non arriva. Ti ricordo la frase, ma veniva usato Kokira. Kokira, Kokira è da questa parte. Ti ricordi se era grammatica o se era... Ah, è la frase della lettera. Non mi è arrivata la notifica. Vai tranquillo, è la frase, ho capito qual è, è la frase della lettera. Quella che scriveva una lettera alla tipa e diceva Kokira wa minna genkides, quella lì. Da questa parte stiamo tutti... Come no? Tutte scuse. Quale era? Che dice se... Ci o sei un mito? No, devo trovarlo, però. Allora, questo qua... Quello che dice Kokira wa minna genkides, quello della lettera, no? Era proprio quella perché Kokira e non Gogo. No, allora, quando parli al telefono o anche quando scrivi, devi dire Kokira. Cioè, è un modo di dire da questa parte stiamo bene. Cioè, da questa parte, dal mio lato sarebbe, dalla mia parte stiamo bene. Quindi Kokira. Anche quando parli al telefono o quando scrivi la stessa cosa? Qua parla di... Parla di sé e di suoi familiari. Qua stiamo tutti bene. Il nostro stiamo... Qua stiamo tutti bene. Quindi Kokira, da questa parte. Ok, devo pensare come da questa parte e non qui stiamo bene. Sì, sì, esatto. Non usano qui, usano da questa parte. E quindi Kokira. Seba, tu hai dubbi prima che iniziamo? Se vuoi che ti spiego qualcosa. Poi partiamo a 200 all'ora. Ok, perfetto, grazie. Sì, guardate. Seba, dimmi se hai qualche dubbio. Poi partiamo. Intanto vi inizio a scrivere l'esercizio. Mentre aspetto che Seba mi chiede qualcosa. Io farei 180 e lei l'ora. Allora. Si vede il diritto, sì. Dubbi tanto, certezze poche e... Eh, dubbi tanto, chiedi, sono qua. Sì, sì. Chiedi, chiedi. Sono qua a posto. Se hai dubbi chiedi, perché poi andiamo avanti e ti perdi. Per quello preferisco che capisci. Piuttosto mi dici, no, ho capito questo. Rispiega, no, te lo rispiego. Allora. Per chi sta seguendo la lezione, non sto traducendo, perché lo devono fare loro che hanno studiato, in teoria. L'esercizio qua è mettere o Arimas o Imas. La grammatica è chiara poi e le applicazioni si vedrà. Ok. Qua bisogna mettere solo Arimas o Imas. Mi dovete dire voi quando si usa Arimas e quando si usa Imas. Io non vi dico niente. Sempre Niva. Tutto in giardino hanno questi. Ah, stavo scrivendo. La frase è sempre la stessa, cambia l'oggetto e cambia il verbo. Ok. Il primo esercizio è semplicemente usare il verbo Arimas o Imas. Chi fa la 1? Mettetevi d'accordo voi. Uguale. Quando si usa Imas e quando si usa Imas. Vai tu, Massi. Fai la 1, lui fa la 2, tu fai la 3, lui fa la 4, la vai la 5. Andate avanti così. L'esercizio dopo lui fa la 1. Faccio io la 1. Sì. Tu fai 1, 3, 5, poi lui farà 1, 3, 5 e tu le altre. Me lo scrivete e me la traducete anche. Se avete dubbi che non sapete qualcosa me lo chiedete. E poi mi dite il perché avete usato Imas o Arimas. Così capisco che avete capito, che ho capito, che hai capito. Wakatta? Wakatta hai capito. Ho capito. Io non ho capito XD. Esatto. Grande, Rankish. La regola non posso dirla perché è quello il trucco. Praticamente quando ci sono le persone si usa un verbo. Quando ci sono gli oggetti si usa un altro verbo. Ma questo verbo qua è sempre il verbo stare. Però se lo usi con un oggetto si mette Niwa Ni Ikega Arimas. Giusto? Ha messo Arimas perché traducimelo Massim. Nel giardino ci è uno stagno. Stagno è una cosa quindi uso Arimasu. Ok. Va bene. Stagno o laghetto. Va bene lo stesso. Ike è più lago che stagno però va bene. Anzi no. Mizumi. Mizumi è lago. Bravo. Comunque io dico laghetto. Per me è uguale. E' giusto. E quindi questa l'accendiamo. Che è la risposta. Lo taglio e lo metto qua. Bravo il traduttore. Due pesce quindi Imasu. Due pesce quindi Imasu. Cosa significa due pesce quindi? Sì pesce Imasu. Cosa significa? La frase? Imasu va bene. Imasu perché è un pesce che è un essere vivente. Quindi il verbo diventa Imasu. La differenza tra Arimas e Imasu è che Imasu si usa con gli esseri viventi. Arimasu con le cose non viventi. Cos'è pesce quindi? Sì hai tradotto solo pesce il resto della frase. Niva ni on. No non è on. On non te l'ho ancora spiegato. Quindi non puoi scriverlo. On garimasu. Nel lago ci è un pesce. Bravo. Nel laghetto c'è un pescioletto. Giusto? Niva ni on garimasu. No è sbagliato il kanji. Non è on. On poi non ve l'ho ancora spiegato. Cosa è quel kanji? È chi? Ah! Chi è albero? Questo qua è chi? Albero. Tu hai scritto questo qua on che non abbiamo ancora fatto. On è libro. La differenza è questo segnetto qua. Questo ha un segno libro. Quello senza segno è albero. Comunque la... Chi garimas è giusto. Ma ricordati che il kanji è chi e non è on. Si capita anche a me, non ti preoccuparmi. Visto anche tu quando faccio le studio la mattina mi confondo in chi è già ancora adesso. A furia di imparare. Niva ni chi garimasu. Esatto. Nel giardino ci è un albero anche più senso. Ha più senso. Beh, poteva esserci anche un libro. Un giardino. Gli hanno lanciato un quaderno dentro la giardina. O un tavolo con un libro sopra, poteva essere. Vai Seba, illuminaci. Intanto inizio a scrivere la frase sotto, dell'altro esercizio. Che è sempre uguale. Dovete dirmi quando si mette imas o arimas. Però spero che l albero sia considerato inanimato. Sì, è inanimato, inanimato. Non si muove. Il libro L hanno lasciato sotto L albero. Esatto, il libro è sotto l'albero. Niva ni itoga imas. Itoga imas. Questo è un cane è. Nel giardino ci è una persona. Perché questo è un cane è? Imas questo cane è. Perché questo cane è? Ni wa ni inuga imas. Nel giardino c'è un cane. Non è questo è un cane. Nel giardino questo è ni wa. Ni wa ni. Nel giardino c'è un cane. Invece avevi detto che nel giardino c'è una persona. Ni wa ni itoga imas. Ok. Imas, scusate. Ok, questo ok. Via. Stessa cosa nell'esercizio dopo. Hai letto male questo? Hai letto ni wa in modo sbagliato? Allora. Chi no. A parte che non dovrei leggervelo. Lo imparate. Lo vedete che lo sto scrivendo. Ho letto core per sbaglio ma non ci entrava niente. No, no, infatti ho visto che l'importante è che vedi dove sbagli. Caban. No. Nani. Tu. È la stessa cosa. Qua dovete mettere, attenzione che qua dovete mettere sia in forma negativa, è la stessa cosa ma c'è sia la negazione che l'affermazione. Occhio. Non devo sguagliare la forma del verbo. Chi fa la 1? È lui. Tu hai fatto prima la 1. Tu adesso fai 2, 4 eccetera eccetera. Lui parte da 1. Ah, io. Dai, seba che ce la fai. I believe. Se c'è qualcosa che non capite ditemelo e mi dite magari quel kanji non lo so leggere o dimmelo, te lo dico, non è che è un problema. Non muore nessuno. O qua per imparare. Questa lezione Rachi c'è solo di esercizio perché la spiegazione l'ho fatta in quella dopo. Quindi un'ora facciamo esercizi e quindi lo spiegano loro a noi, cioè a me. E poi la seconda parte facciamo la spiegazione dell'altra lezione. Impariamo a dare i numeri. È molto divertente. Non me ne ricordo neanche io i numeri. Così ripasso. Qua è stessa cosa. Arimas, arimasen, imas, imasen. C'è o non c'è però attenzione a se è un essere vivente o no. Se dovete capire dalla frase. Come digito. Questo lo copio però non c'ho, gli scrivo due volte uguali. Linda, 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 linda. Invece, Raki, se hai studiato e vuoi partecipare, ti faccio partecipare anche a te. Non tengo problemi. C'è qualcosa in quella stanza. C'è qualcosa. Sai che non capisco esattamente la 2. Allora, qua c'è scritto. bellissima aspetta un secondo che aiuto lui c'è qualcosa in quella stanza non è qualcosa non è qualcosa questo qua chi è? io direi così è giusto aspetta un secondo questo qua cosa significa? se va dimmi cosa significa non ti ricordi che cos'è questo? donata e chi è? donata e chi? aspetta aiuto donata e chi? l'ho fatto tutto rosso figa donata e chi? aspetta che ce la facciamo rimetto il posto donata e chi? donata e chi? qualcuno donata mo? nessuno era la regola che vi ho scritto qua doko? dove? doko kani? da qualche parte doko nimo? da nessuna parte nani? nika? nani mo? cosa? qualcosa? niente? chi? qualcuno? nessuno? donata k? donata mo? questo qua è donata k che sarebbe praticamente ti dice in quella stanza c'è qualcuno? l avevo tradotto come chi anche eh anche tu hai sbagliato ecco perché infatti avevo capito che anche tu mi stavi chiedendo ma ho un dubbio qui però l'hai detta giusta perché hai messo hai visto i e hai messo la forma negativa è per quello che hai fatto giusto però questo qua è qualcuno questo qua è nessuno quindi nessuno imasen qualcuno imas cioè tu l'hai fatta giusta la frase come si chiama? seba che hai detto imas non mi ricordavo donatamo no anzi no tu hai messo a rimas hai sbagliato anche il verbo ok quindi ve lo ripeto per tutti donata è chi? seramaco uè ghost o arsado per gli amici donata k è qualcuno donata mo è nessuno attenzione che le frasi sotto continuo a usare quelle robe lì quindi se avete ancora bene bene stiamo tentando di capire il giapponese se avete dubbi ditelo infatti vi ho chiesto se avete qualche parola che vi confonde infatti è fatta apposta per fregarvi è proprio quello lo scopo ok andate avanti sempre tre lui quattro tu andate avanti così l'importante è che capite dove sbagliate perché se no non andate avanti quattro e qua vi mette praticamente vi ho fatto vedere già le risposte vi ho già fatto vedere le risposte che non dovevo farvi vedere però ve le ho già fatte vedere allora hai detto uguale ah no la frase è la stessa aspetta mi sai che ho copiato io male aspetta no no ho sbagliato io ho sbagliato io a scrivere scusa ho sbagliato io a scrivere sopra l'albero c'è qualcosa allora chi no ueni nani ka a rimas ka ok no problem a rimas ci potrebbe fare ok va bene comunque manca il ka è una domanda comunque l'importante è che capite il senso di c'è o non c'è poi poi la seconda è scusa questo qua avevo sbagliato io a scrivere questo qua è nani ka lui l'ha scritto qualcosa ok quindi questo qua è comunque l'esercizio era quella regola in rosso che vi avevo segnato né più né meno è lì la fregatura perché tu quando vedi questo infatti tutti quelli che leggo tutti quelli italiani che vedo su internet che dicono nani nani non sanno neanche che cazzo significa molte volte non è nani ma è nani ka o nani mo o nani qualcos'altro cambia completamente la frase nani ga è che cosa ma tutto il resto no nani ka è qualcosa nani mo è niente quindi venite a studiare a me che vi prendo a schiaffi io nani mo a rimasen bravo no non c'è niente non c'è nulla esatto a rimasen poi 5 6 ve la lascio così se volete scrivere la 6 è uguale la 6 è uguale sei sicuro ah no ma sai che l'oro ha invertito no la 6 è uguale figa la devi fare tu 5 dentro la borsa ci è qualcosa ha rimasto ha rimasto ok sono identiche quelle queste qua era meglio se vi invertivate ma non potevo sapere che erano la stessa frase ok e ok poi è qua stesso stessa cosa doko kanì doko ni mo sarebbe doko doko kanì doko ni mo non ve lo dico il significato vediamo se ve lo ricordate ok lato vieni a salutare tora dai tutto a tutti vieni a salutare tutti no non vuole vieni 7 8 sensei no ka ka ban doko ni mo ha rimasen ha invertito ka ban non è kan ha scritto solo kan però va bene ka ban wa doko ni mo ha rimasen si significa hai sbagliato a scrivere ka ban comunque ok ho perso un pezzo ho visto esatto la frase è la stessa però ormai il senso è quello lì comunque tradurrei come la borsa dell'insegnante non è qui no la borsa dell'insegnante non si trova da nessuna parte non è qui è sbagliato perché sarebbe è sbagliato questo è doko ni mo non si trova da nessuna parte ok la borsa del maestro la borsa del maestro laggiù e ha rimasto perché laggiù perché laggiù la borsa del maestro laggiù non esiste doko kanì allora ha rimasto è giusto perché la borsa del professore è un oggetto inanimato però questo qua è come prima doko è dove doko kanì è da quale da qualche parte e doko ni mo da nessuna parte è la stessa regola che vi ho fatto che avevo segnato qua ma scusa doko dove doko kanì da quale parte doko ni mo da nessuna parte è la stessa roba quando dite io dove si usa quella lì niente e seba devi ripassare questa regola qua mi confondo a vederle attaccate ma devo farci alle abitudini no non sono attaccate no 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 non ti stai no seba non ti stai questo qua è tutto unito è una parola sola questa qua è una parola sola non è cioè non è così non si trova da nessuna parte l hanno rapito gli alieni esatto non riusciamo a trovare il signor john capito è una parola non è unita ti ho staccato cioè questo qua è giusto così sono tutte separate le parole qua lo metti in rosso per evidenziarle qua è messo imasen perché john è un essere vivente ok e seba quella sotto cos'è comunque ripassati questa parte qua seba perché questa parte te la trovi anche dopo dipende dai momenti il signor john da quale parte non è ma si trova imas si trova è ed esse si trova o c'è c'è da qualche parte il signor john sarebbe non è essere ci è c'è esatto c'è da qualche parte il signor john comunque vai la regola è semplice solo ripassatela perché poi più avanti te la perdi per strana comunque la regola qua era solo vivente o non vivente qua è vivente o non vivente però quello che vi voleva far imparare era qualcuno mettete imas cosa arimas do coca dipende dal soggetto imas e o qua invece era rimas perché il soggetto era la borsa ok allora qua è niente qua vi dovete solo leggere le parole che questo qua è solo lettura ditemi solo se vi ricordate le parole ve lo scrivo io e poi voi mi dite che cosa sono le parole cioè cosa ho scritto la frase è la stessa cambia solo la parola asoco ne no no cosa no cosa no cosa non ho capito ah no questa non è la 1 è la 0 non mi ricordo le parole eh beh quella te le fa ripassare lui l'esercizio è proprio quello vi fa ripassare le parole tra quelle che avete fatto in questa lezione quelle vecchie se volete ogni tot le lezioni se volete facciamo un ripasso mi sono portato avanti e mano a mano come si dice se volete ogni tot le lezioni facciamo un ripasso queste sono 8 1 2 a dirti che non mi ricordo i termini ah ok ma è normale ma hai visto anch'io che faccio fatica ancora adesso molte cose me le ricordo laggiù perché laggiù non capisco perché mi dici laggiù seba ah no stai traducendo qua sì sì scusa laggiù c'è una laggiù si trova una persona o c'è una persona va bene giusto scusa scusa my bad no no pensavo che stavi ancora parlando dell'esercizio prima non lo stavo neanche leggendo quello che sto facendo ah 1 2 3 4 5 6 7 8 ok state eh comunque la prima è giusta cioè la prima l'esempio è solo un po' giusto stavo per sbattere la testa al muro A no 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 vai tra comunque ripeto ogni tot lezioni se volete facciamo un ripasso sia delle parole ma stanno girando delle zanzare che sono delle TR put facciamo ripasso delle parole e delle regole così non vi se avete dei dubbi mi dite guarda io questa regola non me la ricordo e noi facciamo un mini ripasso ogni tot lezioni così direi lo facciamo ogni ogni 5 lezioni facciamo un ripassino solo delle regole e delle parole senza fare tutto solo delle regole e le parole se tu vuoi a me va benissimo no se volete voi dovete studiare voi allora aspetta che vi scrivo le parole il primo è giusto ok vai massi con la 1 poi io non vi dico niente mi dite voi cosa c'è scritto è facile cioè facile sono cose che abbiamo continuato le scriviamo ormai da 5 settimane allora l'aggiungi è uno studente ok questo qua sarebbe solo da leggere poi quando ve lo vi do il file questo esercizio qua sarebbe prendi il file e continui a ripetere la stessa cosa per imparare come si chiama la giungi è una donna no c'è una donna si donna si per forza no ma non tutti i tool ah no hai saltato ok bravo hai fatto bene ebbah non mi se non mi fai non mi capisci la 2 vengo lì e ti picchio 3 laggiù ci è allora signor John 5 laggiù un cane ci è bravo ok ho detto se non mi legge John siamo mi tocca andare a casa sua a prenderlo saccana no scusa l'ho detto scusa perdona non volevo ok no non ho fatto partire la live su youtube mi dimentico tutte le volte vabbè poi la carico io non diventico tutte le volte di far partire laggiù c'è un pesce o riot ok manca manchi dov'è che sei un magikarp no il magikarp si diceva com'è che si diceva non me lo ricordo neanch'io l'anghio aspetta com'è che si diceva vi dice chinghio laggiù c'è un cane no massi stai facendo che frase stai facendo devi fare la ah no avete fatto tutte e due un cane aspetta lui sta facendo lui sta facendo la tre fai quelle pari perché lui sta facendo i dispari eh si state facendo tutte e due i dispari perché la prima in alto lui l'ha contata come uno e poi vi siete invertiti tu hai fatto GAC6 tu hai fatto GAC6 qua poi vi siete invertiti lui ha fatto John poi vi siete invertiti avete fatto un casino che su youtube siano complete perché le devo scaricare da là si si dopo appena finita la lezione la carico seba mettetevi d'accordo è perché seba mi ha detto 3-5 ci avete fatto un po' un po' l'altro dai per me è uguale basta che mi dite le parole allora fino allora fai 4-6-8 mancano 4-6-8 e la 7 che poi hai già fatto tu seba però chi sei va 4-6-8 4 laggiù un maestro ci è ok laggiù c'è un maestro questo qua è quella del cane che le avete già fatte manca manca questa fammi questa la 6 fai 6-8 ma qua è una parola volgare ma non l'ho scritta io l'ho scritta il libro mi è saltata la connessione vai tranquillo siamo qua 6-8 massimo 6-8 per blindare in ingondro ce la faremo mai mi sa sono tanti gli esercizi vediamo vediamo fino a dove riusciamo a fare come conosci la canzone Linda Linda minchia come conosci Linda Linda Blue Hearts sono uno dei gruppi che ascoltavamo quando eravamo giovani io e Marco è uno dei gruppi più famosi degli anni 90 forse 85-90 penso 90 ah io la conosco solo per il taiko Blue Hearts erano famosi adesso mi sembra che canta solo lui si può dire solo dopo mezzanotte esatto che significa Massi intanto laggiù c'è un gatto laggiù c'è un gatto e la 6 ve lo dico io perché Massi non me la vuole tradurre laggiù c'è un uccello tori ok andiamo avanti che è proprio un uccello vero con le ali allora andiamo avanti qua vabbè stessa cosa praticamente qua vi sta ribadendo ancora quando si usa i Mass i Togaxe i John sono tutte cose viventi ok i Massi 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 perché lui non è convinto che avete capito poi l'altro esercizio è adesso vi scrivo solo i numeri giusti perché se no vi confondo a Soko la prima non traducetela ve la faccio io ok la prima questa qua è la mia non la 1 la prima cosa che scrivo è la mia ok a Soko Nitsu non c'è voglia di scrivere tutto sempre dizione perché questo sarebbe solo lettura dovete prendere il libro e continuare a ripetere la stessa frase per imparare le parole ma dai guarda cosa è uscito in che senso cosa è uscito cosa ti è uscito 1 2 3 4 5 6 traduzione 7 8 no 5 sono io ho scritto fino a 8 no sono 8 ha donato da due mesi ma sta bella giù ci è un your message wasn't posted due to conflict suiz the channel s ma darei sean settings aspetta non ce l'ho non ho niente te l'ha te l'ha messo in pausa però a fare il refresh io non lo vedo aspetta ma devo andare su stream grazie ma devo andare e cosa hai scritto avrai scritto uccello avrai scritto aspetta non so neanche come farlo a far ripartire anche perché io non so farlo funzionare streamlab login download come si fa mi ha censurato laggiù c'è un your sì sì esatto laggiù c'è un uccello è certo che te l'ha censurato infatti lo sapevo io non posso far niente infatti aspetta aspetta non riesco a entrare non mi fa entrare ah login non mi fa neanche entrare non è che non riesco a entrare non mi fa proprio entrare ma non mi è uscito neanche nella chat che è stato bloccato anche l'altra volta mi sembra quando Seba aveva fatto la donazione cioè il regalo non mi era uscito sì sì alert box team no non mi interessa alert box no dove cacchio è eventi come si fa eventi recenti sebastiano o se parte non so se è partito sì adesso sì no questo è quello di Seba non ce l'ho non ce l'ho l'unica l'ultimo che ho è eventi di Seba io posso scriverlo boh non lo so Dani mi controlli che cosa è successo perché mi manca mi ha bloccato cosa cioè mi ha bloccato Massi Twitch è razzista con i Bresciani no no quello non puoi scriverlo quello non puoi scriverlo Massi razzista non si usa scusate vado avanti razzista non si può scrivere cioè razzismo in generale non si può parlare Reizocco a riscriverlo sì ma dai che comunque si capisce che non è una parolaccia dai prova a fare il refresh della pagina Massi per vedere se te lo prende ok l avevo bloccato io a caso avevo bloccato io a caso mi dissocio se gli prende l'uccello xd se gli prende l'uccello i che chi sono stronzo ve l'ho pronunciato io ce n'è uno ce n'è uno di troppo ah no manca uno c'è ci sono tutti Rakish Seba Massi e Daniele ti sei cagata addosso alla fine l ha preso ma prendere l u sì sì non è bello almeno per me non mi ricordo il motivo ma l'ho bloccato ciao bene ti salutano ma è scappata ok ripartiamo ve le numero prima che fate casino aspettate qua vabbè la regola è vi spiega quando si usa rimasti nuovo per gli oggetti non viventi cioè ve lo dice così tante volte che se non l'imparate figlia ok e mi dovete dire cosa c'è scritto qua e basta la frase è sempre la stessa cambia solo l'oggetto come prima stupitemi mettetevi allora prima hai fatto tu le dispari adesso Massi fa le pari e andiamo bene bene e dispari seba esatto dai va sei va dispari e e Poi o Poi o Poi o la giù c'è un frigorifero la giù c'è un frigorifero ok è quella 2 giusto? la giù c'è uno stagno o lago o quello che è il laghetto o stagno va bene lo stesso io dico sempre lago so che è un laghetto laggiù c'è un'automobile laggiù c'è un'automobile aspetta però mi sei saltato da frigorifero stagno laggiù c'è una casa ok Seba ti sei perso? abbiamo perso Seba Seba ok Massi sono giusto ti saluta Massi infatti si sente che è tornata perché sta sbattendo le pentole in giro allora laggiù c'è un pelato no è sbagliato mi dispiace per te allora hanno avuto una donata ripassare Donata un telefono tre armadietto cinque albero sette treno laggiù parola si trova telefono armadietto sei ma si è perso con l uccello allora telefono armadietto albero treno cos'è laggiù parola cos'è laggiù parola ah laggiù parola si trova ok perfetto va bene giusto adesso questo qua è quella roba lì lunghissima qua dovete semplicemente prima lo scrivo io poi il resto è tutto vostro ok qua faccio telefono armadietto eccetera si trovano sì sì ho capito ho capito è giusto e ricordate che c'è Arimas perché questi sono tutti oggetti inanimati ok qua semplicemente così vi metto due frasi dovete unire le due frasi e per unire le due frasi quello va via virgola le due frasi sono unite ok però visto che la cosa è semplice che basta che togliete il pezzo dopo vicino ad esse e unite le due frasi me le traducete voi io vi scrivo solo vi scrivo e voi mi dite cosa c'è scritto ma con un secondo ci sto capendo un cacchio o toko no ito wa donata des ka onna no ito wa donata des ka la prima frase è l'uomo chi è la seconda frase è la donna chi è adesso così diventano una frase unica l'uomo chi è e la donna chi è ok e diventa una frase questa è una frase invece queste sono due frasi voi dovete fare la stessa cosa ma almeno mi traducete voi le frasi perché ve le scrivo io ok mettetevi d'accordo chi fa pari e dispari io intanto scrivo quell'uomo chi è quella donna chi è sì sì no quello l'ho fatto io quello è l'esempio sì sì quello è l'esempio io pari america no cacchio perché parlo io carta e carta il fuoco io fuoco quelli sono impazziti in tanti il fuoco il fuoco il fuoco il fuoco il fuoco sono impazziti il fuoco sì Marco stai usando parole che non sanno ciao 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 c'è scritto c'è scritto c'è scritto c'è 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 ciao bimbo vino ti ha scritto no ciao vino no appena l'ha scritto te sta sta parlando con sebaiashi il fegato il Alex il fegato di Alex esatto che non c'è più tora tora tottemo kawaii desu ciao makusa non ho capito eh vedi che non l'ha capito tora eh nome di mio gatto tora va kawaii desu kawaii desu è già più facile kawaii desu wakari masen kawaii capisci ponese si usa tanto questa parola si ma non l'ho ancora spiegata ma kawaii kawaii e vuole dire che carina kawaii per cui tora è carino vuole dire che tora va kawaii ok tora è carina carino non carina è un maschio tora significa tigre comunque gli dico guarda che sono parole che non sanno e le insiste come sua mamma che ti ripete le parole all'infinito convinta che ti capisco kawaii tottemo molto allora dite mako ga kawaii allora dite mako ga kawaii in giappone le ragazze lo dicevano sempre ma chi è che mi fa la frase tottemo però tottemo non hai doppia t è una t sola tottemo è molto bravo rakish vedi che sei più degli altri in giappone le ragazze lo dicevano sempre a te o a me chi è che mi fa la prima frase dai che se no finiamo più a parte che ho saltato una frase ho fatto un mix aspettate mako hai rotto le balle e niente insiste mako adesso gli tiro una testata aspettate che ho saltato una frase perché mako era sdraiata sul libro e non l'ho vista non è vero non ho visto la frase però diamo la colpa a mako che mi viene così allora ah no ho saltato la prima ho scritto la 2 ho saltato la prima frase questa è la 2 è iniziato a piovere ho saltato la frase 2 scusate c'era 1 rish vai seima fai la prima ah beh non l'ho fatta la prima ah non credo sempre a mas le frasi a johnson abbiamo capito mako se neanche una rompi i coglioni no ho capito insiste vabbè comunque rakish ha detto che totemò è molto quindi lui capisce totemò faccio io la prima poi manco mi fate sbagliare a scrivere ma comando qua iniziato a piovere per fortuna fa un caldo qua manca un guà scusate ok vai guarda mako va totemò kawaii stiamo scritto rakish rakish san rakish san va kakko che significa che sei che rakish è figo dai queste mako sono le lezioni avanzate perché siete italiani dovete fare complimenti alla gazzia giapponese giusto? sì ma più avanti prima devono imparare a parlare poi gli dicono kawaii poi loro dicono due parole e rimangono in piedi come dei fessi va benissimo ma che va benissimo sì prendono cosa? la pioggia prendono ma la prima non dice la stessa cosa? allora aspetta hai ragione anche tu aspetta questa qua è la tana non hai gioco adesso non dicono più la stessa cosa mi distrae certo ma tu mako sei occupata facci conoscere le tue amiche facci conoscere le tue amiche è meglio di no perché lo fa veramente l'ombrello del signor John Davè l'ombrello del signor no non c'è qua non è dov'è qual'è questo è d'ore d'ore sì ma mi devi scrivere come fare la frase devi unire queste due frasi qua queste sono due frasi tu devi farla diventare una questo qua non è d'ore è quale non è d'oco quale quale è non è dov'è è quale ma direi è bello o bellissimo ma chi rei è bello chi rei è bello in generale chi rei è bello sì sì scusa aspetta che piove così tanto che non sento la cosa scrive ok sì sì scusa ma mi devi scrivere come unire le due frasi praticamente da due frasi dovete farne una qua c'avete l'esempio qua c'erano le due frasi desca desca il desca va via e diventa questa fantastica virgola e diventa una frase sola queste sono due frasi questa è una frase sola ok desca diventa del perfetto vai massi due e ricordati che questo qua seba è ve lo so vi faccio solo così per farvi capire anzi faccio così vedete l'esercizio è questo praticamente allora John Sanwa America Jin De Latana Sanwa Tai Jin De ok perfetto quindi qua invece va via il su mettete la virgola John è americano e Latana è thailandese esatto esattamente vai di tre seba scusa e massi a quattro l'altro esercizio è fico concentratemi a fare quello sopra quando avete finito facciamo questo ma la quattro non dovrebbe avere il k a finale no la quattro si ha il k scusa hanno perso e anche l'altro il quattro si ha il k signor John Studente e Ayashi Studente E il signor John Studente E e Ayashi Studente E ok quindi via questo e via ve lo segno rosso perché l'ho sposto ok non so se sentite la pioggia ma è chiudere si però mi ha chiuso la finestra nel momento che c'è fresco mi chiude la finestra morirò morirò ok ok la quattro sbatte contro i vetri o era a terra no no è aperta la finestra che c'ho caldo sbatte contro i vetri no no qua è a terra io abito al piano terra quindi sentite tutto però sta piovendo veramente fuori per fortuna adesso prendo lo shampoo e esco fuori così risparmio un po' di soldi do no ito ga john sande do no ito ga latana sandeska giusto che significa? vi chiedo a voi cosa significa perché così mi accorgo se siete persi qualcosa per strano quale persona è john e quale persona è la nata? eh ricordati che c'è sempre il signor che devi dire quale persona è il signor john e quale persona è il signor latano a parte la seconda aspetta un attimo che la frase di prima che ha detto seba forse ta 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 il signor agenti studente è no Ayashi Ayashi non è uno studente è un maestro infatti prima ho visto che tu hai detto studente due volte qua c'è scritto Gakusei arriva con un minuto di ritardo quello che scrive sì vai tranquillo e qua c'è scritto maestro non c'è problema ho capito attento seba che hai tradotto Gakusei come maestro eh qua c'era il trucchetto perché ti sembrava la stessa frase invece no ok anche perché questa è un'affermazione questa qua invece è una domanda fammi la 5 intanto scrivo la 5 la lasciamo così intanto scrivo l'esercizio dopo 1 pam 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 bam adesso con i i ma ah però lo dovete dire voi bene sono contento per te ma chi fa la uno io stavolta no deve fare ancora la 5 questa è la mia borsa e quella è la borsa del signor John e quella là si va bene comunque togli il D via e togli il su ok perfetto comunque qua la regola l'avete capita due frasi che finiscono con des togliete il su e trasformate in una frase ok qua invece è così dovete farmi la domanda ok tipo qua questa è la domanda ok on di ventanani ok quello vicino al ga dovete cambiare questa parte qua 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 non dovrei dirvelo però comunque la parte del ga c'è la domanda di solito in generale ve l'ho detto perché c'è il barbatrucco qua vi devo lasciare gli spazi perché dovete scrivermi la domanda ehm 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 ok niente qua devo aspettare perché se no no vi scrivo la 5 poi no niente aspetto tanto dopo devo scrivere le altre frasi chi è che fa la 1 eh seba chi fa la 1 stavolta ok faccio la 2 ok dovete farmi la domanda eh se ci sono parole che non conoscete ditemelo pure la domanda la so a so con i wà donat donata desca donata perché desca è maco sto leggendo quello che ha scritto loro perché uno perché desca questa è la risposta eh cosa vi dico sempre io la risposta cos'è cambiate solo la domanda la parola della domanda e aggiungete il ca la differenza è solo questa i che non ha cani nani nani ga imaska ok ci piace e cosa significa i che no naka anzi faccio proprio più facile perché ho sbagliato eh in che senso dentro il lago cosa ci è che cosa c'è esatto nani ga imaska imaska ok o meglio chi ci è no inteso come essere vivente sì però inteso che cosa vivente c'è però non c'è imaska però è che cosa perché ho sbagliato una domanda e un'affermazione non l'ho capito massimo la frase deve rimanere uguale c'è la domanda è uguale alla frase aggiungi solo il ca e sostituisci questo con la domanda ho scritto di su k perché ho sbagliato ok e quindi era sì ma dovevi mettere anche donata ga imas non hai messo neanche ga comunque così copia asoko wa donata ga imaska perfetto adesso ci piace ok la differenza questo cinsan wa diventa donata che è chi ok può esserci un pesce o uno zombie se è uno zombie è imas perché è vivente no zombie gar imas no zombie non è vivente è morto l'abbiamo detto anche l'altra volta zombie si dice arimas lo so ok andiamo avanti 3-4 attenzione dovete sempre cambiare davanti al ga ma come l'aveva detto vivente no non è vivente mi sembra di no no non è vivente non respira non fa essere ma è movente non è vivente allora corega 5 ricordatevi che cambia la parte col ga corega l alba dei morti dementi esatto no no 6 coreva zombie di su k coreva zombie desu ka esatto asoko ni wa nanika no asoko ga asoko ga nanika arimasenka perché nanika arimasenka cosa stai facendo massi non ho capito non ho capito cosa stai facendo è più facile è più facile di come la stai immaginando si dice nanika o nanga nanika nanga non esiste nan è quando c'è il verbo essere nandes però non è quello il problema tu devi la domanda è qua non è qua la 3 si si è sbagliato perché la domanda è questa asoko ga to ele des laggiù è il cesso quindi la domanda è dov'è il cesso tu devi cambiare questo asoko deve diventare do ko ga to ele des ka questo devi cambiare prima del ga cambi te l'ho detto anche qua prima del ga qua vi confonde perché era in mezzo però prima del ga cambi questa qua è così aspetta la domanda doko che significa la doko ga to ele des ka dov'è il cesso ok quello che cambia è questa parte qua non è questa enan perché cia di su forse ho fatto casino socira nandes no aspetta socira ganana perché socira ah si ok potrebbe essere anche questa qua te la do buona però no cioè nel senso la domanda era così te la potrei dare è giusta quello che è scritto seba però no perché quello che sta facendo lui adesso è questo da quale parte perché voi avete studiato questa roba qua come si fanno a fare domande che adesso è sopra se fosse stato cosa è quella cosa laggiù guarda vedete qua docira doko dore lui vi vuole fare fare questa roba qua e questa è la parte che dovete cambiare docira da quale parte è sud e lui risponde da quella parte cioè da questa parte è sud ok questa è la stessa cosa dov'è il bagno dov'è la toilette la toilette è laggiù è la toilette ok sono domande di sopravvivenza comunque dovete cambiare la parte sempre dove c'è il ga va cambiato se no sarebbe sorega nandesca che va bene lo stesso è giusta e non è sbagliata però in questo caso lui vuole farvi fare quelle esercizioni cioè qua non ve lo cambiava perché il ga era qua era qua il ga qua invece il ga ve l'ha spostato davanti comunque non è sbagliato neanche dire so cira ga no se c'era ga nandesca si può dire però ha più senso così tiro di su di due no troppo soko ancora si stesseva ti uccido doko ga toire desca è giusto doko ga toire desca soko ga nandesca esatto si potrebbe dire così ma non si fa si potrebbe non ti ho detto che puoi farlo è sempre la stessa regola di qua allora core come si questo come si domanda cocò come si domanda perché voi cambiate tutto così facendo cambiate tutto dovete cambiare solo la questa è una risposta voi la risposta dovete metterla si in generale si per quello che ti ho detto prima va bene però tu hai messo una doppia domanda qua lui ti vuole fare semplicemente l'esercizio di qui da questa parte si chiede da quale parte questo si chiede con quale cocò si chiede con dove qui si chiede dove capito dovete solo cambiare questo pezzo qua non questa parte dopo l'ha fatto anche Seba c'è anche Massi no Massi no non dovete mettere i nani o robe varie dovete cambiare solo davanti al ga solo questa parte qua solo davanti al ga dovete cambiare qua era in mezzo perché il ga era qui qua era il ga e quindi l'ho messo in me qua il ga era in mezzo qua il ga si è spostato qua il ga era in mezzo qua il ga si è spostato davanti quindi dovete cambiare davanti quindi a Corè la domanda è a Cocò la domanda è è anche giusto come lo state ponendo voi perché dite la risposta la domanda posso farti in un altro modo però dovete dovete seguire l'esercizio doko esatto però tu quale stavi facendo Seba che so con Andesca tu devi fare quella 6 ok quindi doko cosa scrivi doko sentite Marco che chiama il gatto è giusto anche come la pensate voi la domanda perché potete dire la stessa cioè io tipo questa qua posso dire Sochiraga Nandesca va bene lo stesso la domanda è giusta però lui vuole farvi fare questo esercizio qua Adocira deve essere collegato Cocira eccetera eccetera ce la possiamo fare I believe cioè praticamente voi state facendo la cosa più difficile invece la cosa più facile semplicemente copi tutto metti qua sostituisci il G e metti il K basta è già finito per quello la risposta deve essere sempre uguale alla domanda e viceversa doko ga dai doko rodesca bravo vedi Seba ha capito quindi coco è qui la domanda si fa doko normalmente dov'è la cucina la cucina è qui cioè dov'è la cucina qui è la cucina ok quindi questo qua doko e ka a parte che te l'ho tradotto io dovevi tradurlo però scusa dai doko ru dai doko ro hai scritto ru al posto di ro dai doko ro so so re ga anata noboshide dov'è so re ga anata noboshide ska va bene però devi fare cioè è giusta ma si è giusta anche la tua però la domanda è un'altra devi fare la stessa cosa che ha fatto seba copi tutto a core c'è la parte col ga devi sostituire devi mettere do devi mettere do do re ga anata noboshide ska qual è il tuo cappello questo è il mio cappello ok cioè è giusto quello che scrivete voi la frase è giusta cioè la domanda è giusta si può fare anche così perché è giusta però lui vuole farvi dire vuole farvi imparare a core doko eccetera eccetera è giusta comunque è giusta ma è sbagliata perché il libro vuole che semplicemente che tu fai così fai così copy questo è il mio è il mio cappello la domanda è d'ore qual è il tuo cappello ok normalmente chiedi qual è il tuo cappello non ce la faccio stasera no no vabbè allora tu hai chiesto quello è il tuo cappello che è giusto lo stesso quello è il tuo cappello va bene ci sta ma dopo adesso vedrai che vi fa fare un esercizio così è l'esercizio dopo però lui vuole farvi capire che normalmente quando dici questo è il mio cappello uno ti sta chiedendo qual è il tuo cappello dore ga anata no boshi deska ok comunque cioè la domanda che tu hai fatto è giusta dore ga anata no boshi deska è giusta dore no dore ito ti vengo lì ti tiro una testata seba dore ito non esiste dore si usa per le cose dore si usa per le cose poi c'è scritto no come fai a fare dore dovrebbe venirti in automatico se co co e do co e core e do re ano è il buco di dietro sì ma anche cioè basta vedere qua cosa si fa ah ciao ricordate dovete solo cambiare prima del ga l'esercizio è quello lì adesso adesso poi cambiamo tutto poi vi stravolgo tutto però adesso è questo l'esercizio docira ga no non è docira ga sense deska non è docira quello è da quale parte è il maestro è sbagliato normalmente chiedi chi è e tu seba l'hai fatta giusta ma al posto di usare le cose devi usare quello dell'altro ce ne sono due e poi c'è scritto devi togliere il re mettere qua c'è scritto lì you can I believe adesso poi l'esercizio dopo capirete perché stiamo facendo sta cosa qua donata no il chi era per massi non era per te non è donata allora quella persona è john la domanda è quale persona è john normalmente non è donata donata era per massi tu hai risposto praticamente a quella di massi tu hai risposto a quella di massi lo scrivo donata donata ga sense deska donata ga sense deska ecco esatto ripeto è giusta anche l'altra però c'è il ga per quello ve lo ripeto c'è il ga quindi quando c'è il ga cambia prima del ga donata ga sense deska sto iniziando a fare una leggerissima confusione no vai vai normale ma no questa parte qua adesso dopo la frase dopo capirete voi fate semplicemente quello che vi sto dicendo io cambiate copiate la frase e cambiate solo il ga dove c'è il ga il resto lasciatelo così la risposta è ayashi normalmente chiedi chi è il professore e il signor ayashi è il professore donata ga sense deska ayashi san ga sense des ma questo è normale comunque non preoccupare adesso l'esercizio dopo vi sarà tutto più chiaro facciamo l'ultima qua e adesso vi chiarisco le idee con questo fantastico esercizio la differenza la state vedendo la sto già scrivendo sotto come no come no in che senso l'ultima chi è che la deve fare l'otto di chi era no donata ga sense deska è giusto è l'ultima la otto è seba seba mi devi fare la frase fatta io si ma lui l'ha scritta ma tu non hai fatto la tua john è rimasto lì da solo come un perla seba fai l'ultima che io riposo no tu inizia a guardarti quella sotto che riposa inizia a guardarti quella sotto praticamente questa frase sotto qua sarebbe queste cose qua dai seba se non facciamo in tempo avete fatto molto no solo stiamo facendo gli esercizi fox se vuoi esercitare siamo siamo ancora in tempo abbiamo fatto un paio di esercizi e basta solo quando mettere i mass o arimas e quando e quando fare le domande dono ito ga dono ito ga john sandeska ok perfetto giusto copy ma questo è proprio un esercizio così perché adesso vi faccio vedere il perché ha voluto fare ciò qua vi volevo semplicemente spiegare quando usare dono dono doco donato ok adesso avete anche il rinforzo di di fox allora io vi allora praticamente qua è e ki wa doco deska la stazione dove è la stazione dove è la stazione dove è si usa wa e se vedete qua doco doco ga dai doco ro deska doco ga e ki deska quando c'è quando mettete dove prima va il ga quando mettete questa è la in questo caso e ki wa doco deska la domanda è qua doco invece qua la domanda è qui capito lo metto lo faccio diventare che colore lo faccio diventare giallo non si vede fox nobis aiutaci tu aiutaci tu dai questo è facile la stazione dove è si mette wa dove è la stazione che è l'inverso si mette ga quale devo fare aspetta aspetta devi semplicemente invertire la frase la domanda è qua in questo caso si risponde qui per quello voi avete risposto a tutte queste domande cioè avete messo la domanda qui perché era questo esempio uguale identico vedi tipo qua doco ga dai doco ro deska doco ga e ki deska è la stessa cosa quindi la domanda è qui cioè dovete rispondere qui invece quando c'è il wa la domanda è questa capito è inverso adesso io vi scrivo semplicemente la frase voi vi dovete fare l'inversione e tradurmela puoi ripetere sì sì certo che posso ripetere soggetto o l'inizio va soggetto in mezzo ga ho capito no allora e ki wa doco deska sono due frasi cioè sono due frasi completamente diverse dove la stazione dov'è si mette il wa e la domanda è dove ok in tutte e due la domanda è dove solo che qua il dove lo trovate dopo se prima mettete il nome ma nel significato quale è la differenza tra le due ok questa è la stazione dov'è e l'altra è dove è la stazione la differenza è quella la stazione qua dove è l'altra invece è la differenza ve lo faccio io in italiano così si capisce dove ga stazione qua la differenza è questa vedete la differenza se chiedete la stazione dov'è dovete mettere wa se dite dov'è la stazione dovete mettere il ga che è poi l'esempio di quello che avete fatto voi qua praticamente ti sta spiegando quando si mette il wa e il ga in base a che cosa stai chiedendo a parte la costruzione grammaticale il significato mi sembra lo stesso sì ma per i giapponesi non è uguale sì il significato è quello anche per noi è lo stesso però allora qua ti stai chiedendo la stazione in particolare dov'è e quindi wa qua dice la stazione in generale dov'è la differenza è quella e quindi mette gli a comunque questo qua dovete semplicemente fare il doko mettete il doko davanti ga yubinkyoku desu ka invertire cioè fare fare la stessa domanda in un altro modo è la stessa domanda in due modi diversi praticamente solo che uno vuole il ga e l'altro vuole il wa la differenza è quella niente vi sta semplicemente insegnando a fare la domanda in due modi diversi però naturalmente se la cambiate in modo di farla dovete usare la forma giusta allora questa è la 1 la 2 2 la leggo perché dovete leggerla voi ci dovrò meditare ci dovrò eh no se hai dubbi chiedi qual è il dubbio dimmelo se mi chiedi io te lo ti rispondo che è lo stesso significato si in italiano si però per i giapponesi se cambi la nel senso è uguale ma se cambi il modo di fare la domanda devi cambiare anche il il vaga 4 no la 3 era la 4 vabbè faccio diventare la 4 la 3 io salto sempre un pezzo comunque non ho spiegato niente di nuovo fox stiamo facendo solo gli esercizi di quello che abbiamo studiato l'altro iubin kioku che vuol dire iubin kioku è posta la costruzione è chiara ok adesso praticamente voi dovete questa è la domanda con guà me la dovete trasformare in una domanda con il ga e per fare la domanda col ga dovete invertire mettere il ga e mettetevi in ordine come volete voi un due tre l'importante è che capite tutti però mettetevi in ordine come la posta si è iubin kioku io tre dai ok io farei fare tutto a fox a faccio pure io la prima e massi la 2 dai iubin kioku a dopo desca diventa che poi è quello che avete fatto prendere l'esercizio prima che che voi vi confondevate perché non capivate dove era la domanda la domanda era qua questo qua di prima la domanda era uno così faccio casino dobbiamo anche tradurre sì sì per capire se avete vi ricordate le parole a ti non vi ho detto niente apposta poi se naturalmente se non sapete una parola ve la dico comunque sono tutte parole che abbiamo già usato non ci sono parole comunque in caso non la sapete ve la dico io poi c'è domanda risposta dov'è la toalette 3 doko ga to ele desca dove la toalette ok invece l'altro è la toalette dove sono due cose diverse dove è la biblioteca doko ga to shokan desca no perché è doko almeno che non ho sbagliato a scrivere io no no non è doko eh non è doko non è doko doko ga yubin kioku desca mi sa che ho messo una u di troppo no è giusto dove è la posta esatto no ma si è non è doko è dore dore è quale non è dove questo qua non è dove è quale piri 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 tiro su un palino cioè la costruzione era giusto ma è dore quale ga to shokan qual è la biblioteca qui invece tu hai scritto dov'è la biblioteca beh ve lo scrivo così così vedete vedete la regolamento è la regola non è una regola è l'impostazione della no chi è che fa seba fai la 1 e massi fa la 5 poi vabbè la 1 del prossimo esercizio la fa fox mi sono perso in un bicchiere di acqua eh beh perché stai facendo confusione ma è normale perché sono tante nozioni nuove e ti stai confondendo anche perché è tutto doko dore dono si la prima intendo la 4 tu hai fatto la 1 adesso fai la 4 intendevo la 4 scusami e massi fa la 5 sai che i numeri non siamo amici allora dono dono ga dono ito manco un pezzo a parte che questo qua dovevo mettere il canji sono stato stronzo non l'ho messo dono ito ga eh dono ito dono ito ga non riuscivo a leggere comunque ricordati devi mettere il san e poi lo salti sempre e ti abitui a non metterlo e non va bene devi metterlo dono ito ga dono ito ga manca ito si manca ito e manca anche san manca anche il san ok e questa aspettiamo seba e via ve li ho spostate così le vedete in ordine giusto come sono la differenza vai che l'avete anche qua sopra la sortia do cira ga ki ta desu ga bravo do cira questa la capita bene se dov'è che cos'è che significa però non ha capito cosa significa cosa significa questa qua la fa massi c'è massi scusa fox dono ito ga john sandeska adesso è giusto perfetto questa qua è domanda e risposta io ti faccio la domanda tu fai la risposta e basta asoko wa nandeska e ricordati sempre la domanda l'unica cosa che devi sostituire è togliere il ka e sostituire la domanda che in questo caso è lua e quando trovate lua la domanda è dopo in generale quando c'è il ga è prima del ga sempre in generale 99% è così quale persona è il signor john quale persona è il signor john giusto questa qua la domanda e la prima la risponde fox asoko nandeska c'è il disegno e ti dico cos'è è un giardino perché non vedete la foto è un giardino comunque che c'è qua poi la seconda non la dico perché se no capisce questa qua la fa seba in quale direzione è il sud in quale direzione è il sud è giusto peccato che kita è nord kita è nord minami e sud kita è nord bravo ti ho beccato che non sai le cose allora kita è nord minami è sud igashi è est e nishi è ovest allora poi questa qua la fa massi cono tatem ah si ciao sto leggendo asoko wa ninguadisu asoko wa ninguadisu bravo nan nan deska e questa la tua invece è una fabbrica massi questa è la domanda 3 è una fabbrica e invece ni wa ni naniga rimase e c'è un laghetto si vabbè c'è l'ago alberi di quello che vuoi o l'albero o lago allora abbiamo detto asoko 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 wa ninguadisu ok perfetto poi qua abbiamo detto qua non ho niente non ho ancora detto nulla niente non ho detto ancora nulla aspettiamo intanto scrivo le altre frasi allora la 4 me la fa fox comunque ho panicato due secondi visto che non avevo fatto caso al disegno eh no te l'ho detto infatti non si vede infatti te l'ho detto io che cos'è perché sennò almeno che non è la vista raggi X non lo vedi allora questo qua invece è il cesso o toilette per gli amici coco wa è bello che c'è c'è il disegno della ve lo faccio vedere perché è bello c'è la turca non c'è il cesso normale è la turca non so se si vede vedi che c'è non c'è il cesso normale c'è la turca coco wa coco wa nandesca che cos'è questo qui cos'è sarebbe poi la no la 5 non esiste cosa c'è nel giardino cosa c'è nel nel giardino c'è o un albero o un laghetto quello che ti piace di più cosa vuoi mettere devi rispondere tu la domanda è quella però devi rispondere tu invece massi è la 3 e la 3 è una fabbrica la risposta ok come ricordo ga la domanda è prima wa la domanda è dopo ok vedete che ga la domanda è prima e wa la domanda è dopo wa la domanda è dopo per quello prima avevate tutti i ga 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 e dovevate sostituire la parte davanti solo che ve l'ha spiegato dopo il libro quindi per quello vi confondeva per quello vi ho detto scrivete come è scritto la risposta mako e seba conosce linda linda si linda 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 si bravo bravo i i che ga arimasu ok la 3 massi linda linda e linda linda e la 4 fox è un bagno comunque fox e invece massi e la fabbrica Fabrican de cioccolato. Intanto vi scrivo, sotto l'altro esercizio, se non finiamo più. Uno. Non mi ricordo come si dice fabbrica. Coggio. Coggio si dice. Coggio. Anch'io. Io non me lo ricordo neanche adesso come si dice. Cono non è taemono, è tatemono. Tatemono. Avevi detto bagno giusto. Sì. Soko a toire des. Bravo. In teoria dovrebbe essere coco anche qua, perché qua è inteso qui dov'è. Significa che ci sei anche tu. È giusto anche Soko, però in questo caso è coco, perché è inteso che ci sei anche tu in quel posto. Sei entrato nel cesto e dici qui cos'è. E quindi anche per te è qui. Però è giusto Soko. È solo in questo caso qua. Tipo quando chiedi qui dov'è e ti dicono qui è Tokyo. Se ti trovi nello stesso posto si risponde sempre qui. Però non hai sbagliato quello che hai detto. Anche se dici Soko è giusto. Poi, questo qua è tatemono. Questo qua significa palazzo. Non è tatemono. Tu cos'è che hai scritto? Taemono. È tatemono palazzo. Adesso mi è scito il canji. Tatemono. Kojo si scrive Koujou. Significa che quel palazzo è una fabbrica. Così. Qua la toilette è così. Cioè poteva poi scrivere anche Soko. Però è più corretto Coco. L'avevamo trovato qua. Aspetta che te lo faccio vedere. Era indietro. Forse tu quella lezione non c'eri. Penso. Tutto tutto quello che diceva Tokyo è qui. Tokyo dove stai. No. Siamo tornati troppo indietro. Che ti dice Osaka è qui Tokyo è lì. Era in un esercizio. Kokonionga rimas. Forse. E' qua. Vedi? Che fa la domanda. Kokowa. Aspetta che te lo ingrandisco. Perché è inteso che tu sei lì dentro con lui. Kokowa dokodeska. Che è la stessa domanda. Kokowa è nandeska. Però qua doko è uguale. E risponde Kokowa Tokyo. Vedi che risponde a Kokò con Kokò. Però non è sbagliato al mille per mille. Anche se dici Sokova è lo stesso. Diciamo che la tua è grammaticalmente più giusta. Però loro dicono così. Perché è inteso che tu ti trovi nello stesso posto. Che in quel momento sei lì con l'altra persona. E quindi dici qui e questo posto qua. Allora qua invece dovete rispondermi. Ma in modo negativo alla domanda. Suque. No. Stani. Capito. Ok. Comunque la risposta che hai dato è giusta. Grammaticalmente va benissimo. Ok. Dovete rispondermi in modo negativo. E la prima la fa. Ho risposto Fox. Quindi Seba. Ok. Quindi qua mettete. Io metto sempre Z. Non so per quale motivo. No. E risposta. Poi. Se non sapete le parole ditemelo. Queste qua sono un po' più toste. Quelle che non sapete ve le dico. O vi aiutate a vicenda. La risposta è se vai per il copio. I è per tutti. E no per tutti. La risposta. La tre Fox. Da qua forse non l'avevamo fatto. Però vediamo se ci arrivate. know. Aiuto. Ma c'è un po' più. e cinque quali devo fare? tu la due attenti solo questa qua è la roba che si sbagliava prima a Seba quindi attenti e soprattutto attento a te a Seba che se non sbagli se vuoi puoi chiedere aiuto puoi fare la telefonata puoi chiedere aiuto allora copi tutto fino a qua devi fare la negazione la negazione la prima cosa che vuole è il wa nanika che significa qualcosa che l'hai imparato prima il contrario di qualcosa è niente che è nanimo questo non lo sapevi prima e poi la parte negativa nanimo kikoenai significa non sento niente questa qua se l'ha inventata perché la dice chi cassete le macco si inventa le parole delle canzoni allora nanimo nanika diventa nanimo questo qua è quella della regola nanika diventa nanimo e il verbo in forma negativa è così non è mica colpa mia è difficile è difficile metto così così ve lo faccio vedete la corrispondenza e il kava via naturalmente allora mon no soba ni wa nanimo mon no soba ni wa nanimo imasen bravo questo è giusto che significa? la traduzione non la faccio perché è troppo semplice e allora fammela se è semplice se è semplice fammela ni wa nanimo imasen e vedete come faccio io cioè in teoria voi mentalmente dovete fare questa cosa che sto facendo io con la tastiera copi tutto uguale cambi solo le parti che devi cambiare no ma seba già all'inizio non si confondeva con qualcosa e nessuno quindi è normale che anche questa parte non riesci a farla a parte che glielo ho spiegato prima mi ha detto che aveva capito ma ha fatto finta Fox e mi mando e dimmi cosa quale che non capisci questo? questo? cosa non capisci? questo qua mon no soba mon è portone soba è vicino a parte che scusate ho sbagliato a scrivere avevo scritto saba so stronzo soba my bad per forza non potevi capire no no questo è soba è vicino my bad scusa scusa errore mio mon è portone non soba vicino al portone ma no seba ha fatto la frase mon scusa non è che è scritto denwa iè denwawa do konimo marimasen giusto ma non la dove ah no è giusto 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 ai ai iana ninanimu di su forse iè eia ni nanimo eia eia non naka questo è naka dentro ni nanimo no no questo qua te lo spiego io aspetta seba tu hai fatto la 5 perché hai fatto la 5 non ho capito vicino al portone non ci è nessuno comunque non mi ricordavo mon ok era portone non ho capito perché sei mai fatto la 5 però va bene de ua se va mi ha sparato la 5 aspetta de wawa do con i mo i massenti a rimasen scusa il telefono non si trova da nessuna parte mi sto confondendo va bene va bene l'importante è che l'è fatta giusta l'è fatta giusta quindi già va bene poi anch'io tipo ho scritto saba era normale che non poteva allora questo qua era facile perché c'è già l'ua do kokani e da qualche parte diventa do con i mo a rimasen perfetto easy e adesso facciamo questa qua 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 c'era già un problema che non può forse questa cosa qua l'abbiamo fatta ma non so se ve l'ho scritta ea non ha cani dare ca imas la prima cosa che fai è naca e dentro che non me l'hai scritto dentro la stanza nacani wa e dare ca è qualcuno diventa dare mo che nessuno che è donata ca e donata mo e la stessa cosa è dare ca dare mo imas ca imasen questo non so se ve l'avevo fatto praticamente dare si questo qua l'abbiamo fatto forse l'abbiamo fatto solo così dare ca e donata ca e dare mo minchia ho sbagliato tutto no vabbè tranquillo qua per imparare se sapevi già fare tutto non eri qua comunque dare e donata sono la stessa cosa dare ca donata ca sono la stessa cosa dare mo donata mo la stessa cosa è sempre chi chi qualcuno qualcuno nessuno nessuno ok così ce l'avete anche questo ve lo porto non lo lascio qua no ve lo metto delle regole taglia lo metto dov'è che abbiamo fatto la regola qua era inserisci celle tagliate ok poi ci avete la regola che è la stessa cosa perché avevo scritto donata donata gamma il dare ca non c'era che sono la stessa cosa lo metto con l'uguale così non ci si sbaglia la prossimo il prossimo giro dov'è l'uguale uguale uguale non so dov'è qui avete anche la tabellina giusta nella regola giusta salvatina di sicurezza ok la massi e la 4 io scusa la mia è scritta io e john sangwa do con i moi ma sen perfetto qua è facile perché non c'è una zona non c'è niente quindi c'è già lo a dopo cani diventa do con i mo che significa da nessuna parte i mas diventa i ma sen e lo a non lo mettete perché c'è già il va c'è già c'è già nella frase se non c'è lo mettete ma se c'è l'ho lasciato comunque questa composizione della frase ce l'avevamo sopra avete spiegata nell'esercizio che abbiamo fatto l'altra volta do con i mo vedete che c'è qua do con i moi ma sen che l'avevamo fatto avete la spiegazione qua fatto è che poi sotto vi ho messo l'esercizio all right niente abbiamo finito ok adesso facciamo un ripasso flash mancano dieci minuti otto minuti non riusciremo mai a fare l'altra lezione vai facciamo un ripasso flash delle parole nuove ditemi se avete parole che non vi tornano io ve la dico e voi mi dite cos'è usciro ve le scrivo ve le avevo scritte l'altra volta non mi ricordo se ve le avevo scritte ve le avevo solo lette adesso le parole sono poche poi sarà un casino ve le scrivo lo stesso fino a che riesco ve le scrivo tanto abbiamo otto minuti allora voi mi dite cosa significa io vi scrivo e voi mi dite cosa significa sono tutte parole una dietro l'altra oggi non abbiamo fatto neanche una lezione nuova così partiamo dalla prossima giardino allora dietro giardino ok così vedete anche se ve le ricordate le parole che queste qua sono le parole nuove di questa lezione qualche cacchio scritto poco oggi era dell'altra lezione non ho capito cosa dobbiamo fare leggete le parole che sto scrivendo sono il vocabolario delle parole che abbiamo fatto in questa lezione guardate se le sapete tutte le leggete in modo tale per capire se avve che chi ve lo scrivo col canji no così vi abituate a vederlo albero albero dietro giardino albero laghetto uccello pesce bo davanti allora dietro giardino albero laghetto uccello pesce questo qua è aula jim shih tzu e davanti ok qualcun altro mi faccia queste qua è la seconda riga io ve le sto scrivendo tutte ma fate una riga a testa come volete voi misci e comunque chi non la fa deve controllare che sa queste parole perché comunque sono le parole nuove la lezione dopo queste parole le userà non è che ve le lascia indietro e continuo a usare le parole poi abbiamo fatto la regola del è una regola quella sopra queste qua le prime tre sono parole basta questa è una regola poi abbiamo fatto questa qua vabbè la regola che il mass stare per gli esseri viventi poi abbiamo fatto donata che è lo stesso ve lo scrivo sotto ancora così ce l'avete anche qua dare cane gatto latte gallina palazzo libreria cane gatto latte no cane gatto non è latte è il pesce quello rosso nivatori uccello ah no hai saltato ormai le avevo scritte sulle altre sto zitto no vabbè palazzo nivatori palazzo e libreria è toshokan e biblioteca libreria è ogni toshokan è più biblioteca che libreria o anche ma ecco toshokan è anche libreria o più biblioteca non è più biblioteca biblioteca oia esatto daremo e dareca questo vabbè ve lo metto io come o ma che quello che vi avevo spiegato prima e poi vabbè abbiamo qua vabbè vi mette la regolina che a fine della frase dovete mettere des tagliato però vabbè e poi i kanji nuovi che abbiamo imparato chi non lo so laghetto ucicello pesce jimushiro non lo so prima cane gatto kinkyo non lo so gallina tatemono voto shokan nemmeno bagno est o est ma da dove sei partito da dove sei partito chi non lo so in che senso chi non lo so quale allora ike 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 laghetto ah sei qua allora chi ike laghetto uccello pesce e questo qua è jimshitsu e aula o ufficio scusa ufficio era quello lì che avevamo ti ricordi che l'altra volta mi hai chiesto se che non era kaisa jimshitsu o ufficio poi avevo già scritto mi seccava cancellare no vai tra vai tra va benissimo questo qua ma è davanti poi abbiamo cane gatto questo qua è il pesce rosso gallina palazzo libreria questo toilet poi abbiamo est ovest sud nord portone questo è da quale parte da questa parte da quella parte da quella parte la questo qua il verbo l'unico verbo che abbiamo imparato che è stare che è iro in forma a dizionario lo trovate così se cercate imas sul dizionario non esiste trovate iro non c'è imas poi donata che è chi donata k a qualcuno donata mo nessuno nord west ovest sud portone esatto dare è chi dare k a qualcuno dare mo nessuno adesso vi scrivo anche i kanji provate a leggerli e vabbè qua qua è quello che abbiamo fatto questa lezione qua l altro è aru e l'altro è aru ma l'abbiamo fatto nella lezione prima a rimasse aru sì però l'abbiamo fatto nella lezione prima non è in questa questa lezione con le cose nuove che abbiamo fatto sono solo queste persona uomo donna albero persona donna uomo albero e ne manca uno ito otto coana americain ito otto coana non è on è chi tu ce l'hai su con sto on è chi on è questo on è così chi è così on è libro questo è chi albero manca il segnetto sotto persona americana persona americana esatto americano il on è il segnetto sotto a parte che america no america jean no america jean america jean america jean america ito america jean aspetta eh dov'è che avevo spiegato una marea di esercizi aspetta vedi Italia l'italia abbiamo finito la lezione pulita così vi rinfrescate scriverlo ok va bene fox non c'è problema aspetta aspettate che vi do anche il file prima che mi dimentico ma è che sono solo cioè sono solo gli esercizi in più della lezione precedente però così avete tutto we transfer prima o poi lo metterò tra i preferiti ma non mi dimentico tutte le volte questo qua lo chiudono questo qua lo chiudo un secondo perché sennò non posso salvarlo lo butto che è quello precedente devo capire qual è il mio nome mi sono perso per sed ma con 9141 il mio coso del è il mio account ipiri piri 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 piti piti poi transfer hop no l'ho buttato ma pu***** buttatevi il file dove cacchio l'avevo messo mi è sparito non so dove l'ho messo errore ah no, ma perché errore? che c'è già l'ho buttato l'ho spostato ma non so dove sei tu Fox? sì, Fox è scritto guardate che non sto guardando un anonimo ha fatto fare la subarachis grazie anonimo, non so chi sia sarà Seba, un anonimo però non esce è uscito stavolta? aspettate un secondo che non trovo più il file l'ho messo sul... ok, non me lo fa salvare è uscito? il rumore l'ho sentito però non ho visto niente perché l'ho sui transfert ok grazie Seba anche se preferirei che studiassi che studi di più invece di fare farmi i regali studia che io sono più contento se sei giapponese così poi possiamo insultare tutti in giapponese Alex non mi... ah no, che pale devo riscrivere me l'ha cancellato devo riscrivere tutto punto hot lezione questa è lezione 4 esercizi io ho messo anche lezione 5 ma è stata più lunga del previsto allora il codice aspettiamo il codice dunque la lezione dopo iniziamo a imparare i numeri anche i cangi dei numeri non solo i numeri quindi daremo i numeri e ditemi quando volete fare la lezione dopo e alla prossima se vi va bene mercoledì o giovedì va bene che c'è mercoledì o martedì non mi arriva il messaggio quando volete eh no, quando volete voi quindi per me non c'è problema non mi arriva il messaggio può staccare e riattaccare internet mercoledì va bene per me mercoledì ok rimaniamo a mercoledì poi in caso si cambia non mi arriva il messaggio di ti ho mandato e rexmark e mi ha detto sì la mia idea è giusta ha controllo nello spam quindi c'è proprio così spam 11 mesi sono belle polizza auto quotazione veloce no sacco di monnezza questo non è arrivato non mi arriva il messaggio non ho ricevuto nessun messaggio adesso mi è arrivato il messaggio allora 3,2,8 al momento ho un po' di casino ma mi andrebbe bene mercoledì eh ditemi voi cioè se volete cambiare basta che a me è un giorno che va bene a tutti io non ho problemi intanto sono qua allora aspettate che devo guardare gmail se mi è arrivata la mail e poi ve lo impianto due file sono stati trasferiti col successo molto bene sono molto contento provate ad aprire il link per vedere se c'è il file dentro giusto robe varie prima che faccio danni mi hai mandato l'amicizia si te l'ho mandato l'amicizia ok sei tu questo qua penso di sé ti ho accettato fatto eh ma si vede ehm se vedete il file o meno vai alla schiena sono già le 11 mamma mia come passa Jean Letomp Worka guarda Arachis che ti hanno regalato la sub Seba ti ha regalato la sub Worka funziona ok grazie a lui Massi l'hai aperto il file Fox ce l'hai? ce l'avete tutti? è stato un anonimo è stato un anonimo sei solo tu che regali cosa vabbò grazie a tutti studiate ci vediamo domani mattina con le lezioni per gli psicopatici e poi mercoledì prossimo alle nove per grazie anonimo sei va comunque per chiunque per chiunque per chiunque abbia dubbi potete anche chiedermi farmi le domande quando sto facendo le altre lezioni anche basta che mi scrivete su discord e vi rispondo se avete un dubbio e studiate se no vi picchio quindi buona serata a tutti e ci vediamo domani adesso mi è arrivato l'altro codice buona serata a tutti vado a caricare subito il file su youtube per se no rakish mi picchia ciao buona serata buona serata si si apre bye bye mataniao